Violento nubifragio a Licata, territorio già martoriato dal maltempo nei giorni scorsi, dove ieri in meno di un'ora sono caduti 50 mm di pioggia. Le forti precipitazioni hanno allagato strade e i piani terra delle abitazioni. Non sono stati risparmiati nemmeno i locali scolastici del plesso Don Milani dell'Istituto Giacomo Leopardi della città. Oltre il centinaio le richieste di aiuto fatte ai vigili del fuoco, che sono intervenuti per allagamenti e in qualche caso pure per salvare gli automobilisti rimasti imprigionati nelle loro auto in balia dell'acqua alta. A documentare la drammatica situazione di Licata sono stati anche gli stessi cittadini con i video pubblicati sui social. La protezione civile regionale per la giornata aveva diramato allerta soltanto gialla. Il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, ha chiesto immediatamente un intervento straordinario dei governi nazionale e regionale perché non è ammissibile che vi sia un'Italia sott'acqua a cui si sta rivolgendo l'attenzione delle istituzioni, si vedano Venezia e Matera, e che solo Licata venga lasciata sola. Un altro nubifragio si verificò in città tre anni fa, esattamente lo stesso giorno, il 19 novembre 2016, e a seguito di quell'evento l'allora governo regionale promise un piano per Licata da 30 milioni di euro per l'efficientamento delle strutture cittadine, ma evidentemente non è bastato, dice il sindaco Galanti. Oggi abbiamo un nuovo governo regionale a cui questa città ha dato un grande contributo elettorale e ci aspettiamo che le promesse degli anni passati diventino realtà. Galanti ha chiesto un incontro con il presidente della regione Musumeci e con l'assessore Marco Falcone. Al fine di discutere degli interventi di protezione della costa. E intanto l'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, guidata dal sindaco Stefano Castellino, ha messo a disposizione del comune di Licata gli uffici della protezione civile con tutti gli uomini in forza e qualunque cosa utile serva affinché possa alleviare le problematiche della città del Salso. Ed ancora, i deputati del Movimento 5 Stelle della provincia di Agrigento, l'onorevole Michele Sodano, l'onorevole Rosalba Cimino e l'onorevole Filippo Perconti hanno espresso la loro più grande solidarietà e vicinanza al popolo di Licata. Ci impegniamo a garantire nei prossimi giorni, dicono i tre, la presenza del governo nelle aree più interessate dai disagi. Siamo tutti d'accordo nel sostenere che Licata e tutti i territori siciliani bisognosi di aiuto meritino le stesse attenzioni e le stesse premure di Venezia.